Musica Drangheta sequestrati beni per 22 milioni di euro, operazione di polizia e finanza, sigilli al tesoro dell'imprenditore cosentino Giuseppe Borrelli, composto da 11 società, rapporti finanziari e una villa di 400 metri quadri. Draghi, completiamo l'alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria. L'annuncio del Premier a Napoli ridurremo di 80 minuti la percorrenza della tratta ferroviaria grazie alle risorse del PNRR. Il 118 calabrese rischia il collasso. In Calabria mancano 200 medici, l'allarme del sindacalista Iemboli all'altro Corriere TV, la regione renda appetibile il servizio con l'accordo integrativo. Ospedale di Cosenza, Bruno ridona i proventi di Baby Chip, l'artista consegna i ricavi al reparto di neonatologia, la versione in stile Ninna Nanna realizzata dopo la nascita della figlia Fiammetta. Nuovo appuntamento con l'altro Corriere TV, ben ritrovati dalla redazione da Fabio Benincasa. Edizione serale che si apre con la cronaca, un sequestro di circa 22 milioni di euro operato da Guardia di Finanza e Polizia di Cosenza al termine di una operazione che ha portato a sigilli, al bene, al patrimonio di un imprenditore cosentino di 52 anni che era già stato destinatario di due interdittive antimafia. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Sigilli a beni, assetti societari e rapporti finanziari per circa 22 milioni di euro riconducibili all'imprenditore Giuseppe Borrelli di 52 anni, originario di Altomonte, attivo nell'area dell'Alto Ionio Cosentino, nel Cassanese e nella Sibaritide, ma con interessi nella città di Roma e zone limitrofe. Il sequestro ha riguardato le partecipazioni a 11 società attive in plurimi settori merceologici e in particolare raccolta, stoccaggio, trasformazione e smaltimento di rifiuti. Sono stati sottoposti a sequestro anche 58 veicoli industriali di una villa di circa 400 metri quadri. Borrelli, oggi destinatario del provvedimento firmato dalla procura di Catanzaro ed eseguito dalla questura di Cosenza, era stato destinatario di due interdittive antimafie. Roma è capitale nostra, l'abbiamo vinta. La frase è attribuita proprio a Borrelli, pronunciata dopo essersi aggiudicato l'appalto per lo smaltimento dei rifiuti nei campi Rom della capitale, all'epoca della giunta Raggi. Un colpo milionario finito nelle mani del calabrese, trasferitosi nel 2016 nel Lazio, per la Didia di Roma che aveva indagato su di lui quanto raccolto, non era abbastanza per sostanziare l'accusa di aver creato un'associazione per delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti che avrebbe permesso allo stesso Borrelli di accumulare ingenti capitali e di ripulirli con l'acquisto di società e altri beni grazie ad una rete di fidati collaboratori calabresi, molti dei quali a loro volta contigui all'endrine e anche di prestanome. L'inchiesta, che aveva coinvolto 23 persone, era partita dalla denuncia di una società del gruppo Acea. Ancora la cronaca, una tragedia che ci porta a Corigliano Rossano, una ragazza di 18 anni ha perso la vita questa mattina, la dinamica è ancora da verificare ma pare che la giovane appena maggiorenne abbia accusato un malore mentre era a bordo di un bus cittadino, allertati soccorsi. L'ambulanza ha accompagnato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale Guido Compagna dove è stata assistita anche da un anestesista rianimatore che l'avrebbe prima intubata e poi preparata al trasferimento all'ospedale di Cosenza con l'elisoccorso. Proprio durante il tragitto però la giovane è spirata, il velivolo è ripartito poi alla volta di Cosenza senza la paziente. Sarà l'autopsia adesso a stabilire con certezza le cause del decesso. Il Covid con la lettura del consueto bollettino diramato dalla Regione Calabria 11 decessi nelle ultime 24 ore nella nostra Regione dove si registrano 2851 nuovi casi. I tamponi effettuati invece sono stati 13.067. Aumentano i ricoveri e sono tre quelli nuovi in rianimazione. Reggio Calabria resta ancora la provincia più colpita con circa un terzo del totale dei casi registrati. Ancora la sanità al centro del nostro Tg con un allarme lanciato dal 118, un sistema al collasso, dice ai nostri microfoni il dottore Iemboli che è vicepresidente regionale dello SMI, la società dei medici italiani, che denuncia ancora una volta attraverso il nostro Tg la necessità di rimpolpare gli organici per garantire il servizio ai cittadini. Mancano medici ma soprattutto, dice Iemboli, la Regione deve far qualcosa per rendere appetibile il servizio del 118. Sentiamo. 55 postazioni in tutta la Regione, con appena un centinaio di medici in servizio su 330 virtuali. Il 118 calabrese rischia il collasso. Non si contano più gli interventi sui territori con ambulanze demedicalizzate o in perenne ritardo a causa della penuria di mezzi e soprattutto di personale. Tanti medici sopravvino al 118 per mero spirito di servizio, tanti altri hanno deciso di impiegare meglio il loro tempo, meglio ritribuito e certamente meno pericoloso. Sinibaldo Iemboli, medico in servizio in prima linea, dà una vita in viaggio sulle ambulanze. Si appella al Presidente della Regione, Roberto Chiuto, nelle sue vesti di commissario alla sanità. In Calabria abbiamo 55 postazioni di 118 e ci dovrebbero essere 300 medici, invece sono 200 medici. I medici si sono allontanati dal servizio di 118 anche perché ci sono stati questi anni di commissario che hanno bistrattato il servizio. Adesso c'è la possibilità di grazie al Presidente della Regione e al suo commissario Esposito e tutti i sindacati insieme di cercare di risolvere questa situazione, cioè di rendere allettante il servizio, cioè l'accordo integrativo regionale che è fermo dal 2006 in Calabria. Quindi noi speriamo in questo accordo integrativo regionale per rendere allettante il servizio 118. E c'è un caso che tiene banco elezione dopo elezione perché spesso e volentieri proprio in occasione delle competizioni elettorali viene tirato fuori, diventa oggetto di discussioni e di polemiche. Parliamo della realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. Ne abbiamo parlato tantissimo non solo nel corso delle ultime settimane ma nel corso di questi lunghi anni. Sappiamo, sapete che c'è uno studio di fattibilità che è stato redatto dalla Regione che pone la nascita del nuovo ospedale in una zona centrale di Cosenza, quella di Vagliolise che attualmente ospita la stazione ferroviaria, tanto insomma per capirci. Ebbene, il sindaco di Cosenza, l'attuale primo cittadino Franz Caruso, si è detto assolutamente convinto dell'opportunità di far sorgere la nuova struttura proprio lì a Vagliolise, ma ha trovato l'opposizione del sindaco di Rende, Marcello Manna, e adesso anche del sindaco di Montalto Fugo, Pietro Caraccio. Continua il tiro e molla per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza, una lotta territoriale che vede contrapposti il sindaco della città Abruzia, Franz Caruso, da una parte e dall'altra l'amministrazione comunale di Rende e ora anche il primo cittadino di Montalto Fugo. E se per Caruso la location migliore è quella di Vagliolise, per tutti gli altri il nuovo ospedale dovrebbe essere realizzato più a nord nei pressi dell'Unical. Un'idea vista con favore anche da cittadini e associazioni, tra cui Spazio Aperto 1495, che rilancia come si stia creando una congiuntura favorevole senza precedenti sia sul piano infrastrutturale che sul piano formativo. La lascita all'Unical del corso di medicina all'Ateneo di Arcavacata favorirebbe una sinergia tra mondo scientifico e ospedale a vantaggio dei cittadini. E poi, elemento non di poco conto, la possibilità di realizzare nel raggio di un solo chilometro la nuova uscita dell'A2 a Settimo, che diventerebbe l'uscita diretta per l'ospedale Hub. E la nuova stazione ferroviaria di Rende, sempre in località Settimo di Montalto. A spingere in questa direzione è proprio il sindaco di Montalto, Pietro Caracciolo. La trasformazione in atto nell'area tra Rende e Montalto Fugo a ridosso dell'Unical, scrive, con la realizzazione del nuovo svincolo autostradale e opere complementari e della fermata ferroviaria induce a valutare l'opportunità di realizzare proprio in questo contesto territoriale il nuovo nosocomio, scevro da visioni campanilistiche, scrive il sindaco, ma semplicemente orientato alla garanzia di una maggiore efficienza dei servizi ai cittadini di tutta la provincia. La pagina della politica, il Premier Draghi che annuncia il completamento dell'alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria. I fondi del PNRR, dice il Premier, serviranno a ridurre di 80 minuti la percorrenza della tratta ferroviaria tra la Campania e la Calabria. Riduciamo di 80 minuti il tempo di percorrenza tra Salerno e Reggio Calabria. È la promessa del Premier Mario Draghi che ieri a Napoli ha presentato alcuni dei punti più importanti per il Sud Italia nell'ambito dei progetti legati al PNRR che, secondo l'ex presidente della BCE, permetterà di completare la connettività di Napoli-Sud Italia e la tratta Salerno-Reggio Calabria. Parole e promesse importanti quelle del Premier alle prese nel frattempo con il nodo conte in Parlamento sull'aumento delle spese militari, ma comunque ben concentrato sugli investimenti da effettuare nel mezzogiorno e soprattutto in Calabria, a cominciare dal nodo infrastrutture e trasporti cruciale per la nostra Regione. L'obiettivo del PNRR è colmare i divari territoriali ormai insopportabili. Il reddito pro capita del mezzogiorno è infatti poco più della metà di quello del centro-nord e il tasso di disoccupazione è più del doppio per far ripartire il processo di convergenza fermo da quasi 50 anni. Bisognerebbe superare quegli ostacoli finanziari, istituzionali e culturali che hanno frenato il Sud in questi decenni. I punti di forza da cui ripartire sono molti, ha sostenuto Draghi, dall'agroalimentare al turismo e alla moda, ma bisogna innanzitutto completare la tratta ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria. E adesso la Commissione Agricoltura in Consiglio regionale che si è occupato in questa seduta, guidata come sempre dalla Presidente Katia Gentile, delle norme per l'incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese. Hanno partecipato alla riunione anche le sigle sindacali. Vediamo com'è andata. Oggi abbiamo audito le organizzazioni sindacali, quindi CGL, CISL, WILL e CISAL, che ci faranno una proposta che arriverà nei prossimi giorni, per cui siamo in fase di proposta risolutiva, siamo arrivati a tirare le somme dopo questo lungo lavoro che ha riguardato questo settore specifico che necessitava di un intervento immediato ed urgente, per cui riteniamo che già nella prossima settimana, nel giro di una settimana, dieci giorni, potremo portare questa proposta di risoluzione all'ordine del giorno in maniera poi da mandarla al Presidente del Consiglio, ma anche al Presidente dell'Aggiunta e all'assessore di riferimento al Dipartimento per gli adempimenti di competenza. E adesso a Reggio Calabria per parlarvi di un vero e proprio caso. È passata più di una settimana quando abbiamo intervistato Carmelo Malacrino, direttore del Museo archeologico di Reggio Calabria per illustrare le tante iniziative previste in calendario per il 50esimo dal ritrovamento dei bronzi di Riace. Ebbene, con sorpresa, anche se lo stesso Malacrino aveva già annunciato al Corriere della Calabria qualcosa, il Museo di Reggio Calabria per aprile, per il mese di aprile, sospenderà tutti gli eventi in calendario. Il motivo è presto spiegato, manca il personale necessario a garantire ovviamente ai turisti e ai visitatori tutti i servizi necessari. Una notizia che ha dell'incredibile. Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, già in drammatica carenza di organico, perde un'altra unità di personale. Il funzionario archeologo responsabile dell'ufficio prestiti e mostra e dei servizi didattici e rapporti con le scuole lascia infatti il march per prendere servizio alla direzione regionale musei. Restano ora scoperte funzioni nevralgiche, quali quelle relative alle mostre e alle procedure di prestito di opere, sia in entrata che in uscita, ma anche la didattica e i progetti con scuole e università. Motivi che hanno costretto il direttore Carmelo Malacrino ad annunciare la sospensione delle manifestazioni già programmate per il mese di aprile. La politica, io credo che la carenza di organico sia un problema ormai cronico di tanti istituti. Noi lo abbiamo vissuto e lo viviamo da anni, però in questo mi permette di ringraziare tutto il personale del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, perché in questi anni si è impegnato nonostante le carenze di organico, ma siamo arrivati a dei livelli veramente insostenibili. Attualmente ci sono 33 unità in servizio su 95, quindi puoi immaginare le difficoltà che andiamo ad affrontare. Adesso una buona notizia, vogliamo lasciarvi così con il cantautore cosentino Dario Brunori, che ha fatto visita al reparto di neonatologia dell'ospedale Annunziata di Cosenza, guidato dal dottore Gianfranco Scarpelli, una visita non solo per salutare i piccoli pazienti, ma soprattutto per donare i proventi del suo album Baby Chip, una rivisitazione dell'album uscito nel 2020, destinato proprio a garantire nuovi strumenti ai piccoli pazienti del reparto di Cosenza. Ovviamente abbiamo intervistato Dario Brunori. Strano, perché di solito io prometto e non mantengo, per citare anche i capolavori degli anni 90 di Ambra, e invece in questo caso l'ho fatto, ma sono molto contento di averlo fatto, sono molto contento di tutta questa esperienza e anche un po' emozionato. Entrano nel reparto di neonatologia dell'Annunziata di Cosenza le note di Chip, il fortunatissimo album da ieri, disco di platino, che il cantautore calabrese Dario Brunori, dopo la nascita della figlia Fiammetta, ha voluto rivisitare in versione Ninna Nanna. È stato lo stesso artista ad annunciare sui social l'iniziativa, concretizzatasi questa mattina con la visita al reparto di neonatologia diretto dal dottore Gianfranco Scarpelli. Il suo contributo permetterà l'acquisto di nuove attrezzature. Anche se chiaramente io cerco sempre di giocare per non risultare stucchevole, ma è chiaro che è un'operazione che nasce anche sulle ali dell'entusiasmo della mia genitorialità, ma sicuramente nasce anche dal fatto che il disco Chip, che è il padre di Baby Chip, aveva questa intenzione di raccontare, di recuperare il fanciullino interiore, cercando di raccontare, il pettirosso che era in copertina era un po' l'emblema di questo fanciullino, visto che il pettirosso è un uccellino che canta anche durante l'inverno gelido. La nuova versione di Chip riedita gli undici brani originali del precedente disco, uscito nel 2020 con Ninna Nanna strumentali e risuonate dai grandi maestri della Sass Band, Mirko Onofrio, Stefano Amato, Dario della Rossa e Massimo Palermo con strumenti giocattolo e tanta dolcezza. Sono molto entusiasta, molto contento di ripartire e di riportare queste canzoni che alla fine non hanno mai avuto un loro percorso dal vivo perché ci hanno bloccati proprio due anni fa e quindi anche in questo senso facciamo spiccare il volo a queste canzoni. E con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione termina qui prima di salutarvi, però vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento sulle nostre reti con 20-20, il talk di politica e attualità tra gli ospiti Raffaele Mammoliti, consigliere regionale del PD. È davvero tutto, grazie per la cortese e attenzione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.